Sabal Valevano qualcosa i dati del campo Li hai letti almeno Perché ho qui un dossier top secret per te Dati certi Nove dei miei uomini sono morti Brava gente che hai lasciato morire Mi avete messo in una brutta posizione La scelta giusta era ovvia E quel che avrebbe fatto tuo padre È il sentiero d'oro È la direzione che seguivamo prima che morisse e andasse tutto a portale Amita non capisce Pensa sempre ai suoi obiettivi È suddola, è somversiva ed è disposta a sacrificare la vita degli altri È per questo che lotto Io lotto Perché conoscevo tuo padre E rispettavo i suoi ideali Impara le sue motivazioni La nostra via Vai al monastero Fatti una cultura, Ajai Vedevo che mi urlasse dietro Ma invece mi ha ascoltato fino alla fine È un bravo uomo Non mi piacciono gli idioti Una volta che li conosci Sì ma fammi un colore Namaste Raggiù ti sta aspettando nel monastero Ah, il figlio del grande Moan Sabal dice che sei pronto ad apprendere ciò che ispirò tuo padre Banashur, dio tra gli dèi, ha creato il mondo cantando Per questo gli rendiamo grazie Ringraziamo gli dèi per il dono della vita Per favore, prendi un cestino delle offerte La candela ci ricorda che cresciamo solo quando siamo disposti a superare i nostri limiti La vita è l'evole di un gage come un lieve del tuo Dio L'incenza rappresenta la mortalità I dèi ci benedicono con la buon saggezza Noi li raccogliamo sull'evole della preghiera per liberarci dai pensieri Gira la vuota Bello vederti, Ajai La vita senza emozioni non è vita Ma una vita dominata Se un'idea viene consumata Aggiungi la polvere Ajai, hai presente i dati, la mappa? È il monastero L'esercito l'attaccherà da un momento all'altro Resta qui L'armata sta per attaccare Allora, vai, vai, vai Allora, vai, vai Ajai, arrivano i soldati. Prendi delle armi dalle casse. Prendi delle armi dalle casse. Prendi delle armi dalle casse. I soldati stanno attaccando l'armeria. Mi serve aiuto. I soldati stanno attaccando i monaci. Alle porte! I soldati stanno distruggendo le icone! I soldati stanno attaccando le statue sacre! I soldati stanno attaccando le statue sacre! Stanno buttando all'armeria! Faranno saltare le porte! I soldati stanno attaccando le statue sacre! I soldati stanno attaccando le sue casse. L'amico ottistato! Ciao, Ajai, come stai? Ci hai salvato. Sei il figlio di tuo padre, Ajai. Grazie, Ajai. Grazie.